Ok, ciao a tutti, io sono Fabio Biondi, sono l'admin della community JavaScript Developer Italiani e Angular Developer Italiani. Tanto vi ringrazio di essere, insomma, di aver partecipato a questa pausa pranzo e di farmi compagnia, di farci compagnia. Sono qui con Gianluca Casati che oggi ci parla di un esperimento su React Redux, anzi in realtà su come creare un proprio React Redux in Vanilla.js, quindi sono molto curioso. Quindi direi adesso di dare spazio a Gianluca e di farci raccontare un po' di cosine. Adesso ti assegno il ruolo di relatore Gianluca, così ci puoi condividere il desktop e mostrarci un po' di cose. Eccoci, dovresti essere in grado di condividere adesso. Ok, ciao a tutti, vedete, si vede il desktop? La condivisione? Aspetta che io non... Sì, lo vedo, vediamo. Adesso io chiudo il microfono da solo. Grazie a tutti per partecipare, grazie a Fabio per questa ottima iniziativa e anche una bellissima idea di aver creato i vari gruppi React, Angular, Adassi JavaScript Developer. Allora, praticamente io lavoro in Bintu, che è un'azienda che fa advertising. Quando mostro un ADV, in genere è su un mobile, non possiamo usare GQ, non possiamo usare Bootstrap, dobbiamo stare molto attenti al peso, perché ci sono delle specifiche del tipo, non so, un ADV non può superare i 120K. Perché immaginate che uno su mobile magari in 3G o ancora peggio in Edge. Abbiamo bisogno anche di creare dei ADV abbastanza magari più complessi, tipo degli advergain dove l'utente per qualche secondo gioca. In produzione su un sito che abbiamo noi, che diciamo serve per fare comunque per mettere online le campagne, quindi un sito desktop, utilizziamo React e Redux da un annetto e ci troviamo molto bene e l'idea sarebbe, l'idea è quella di avere una logica abbastanza simile a quella che si usa in React e Redux, però con componenti che sono VanillaJS. Allora ho fatto un primo esperimento, che è praticamente questo code pen qua, dove praticamente ho detto ok, proviamo a vedere se funziona, se si riesce a fare questa cosa. E qua è abbastanza grezzo nel senso che c'è solamente un JS con dentro tutto e ho fatto una classe componente, che adesso lo vediamo magari nei repository che è un po' più strutturato, e c'è il classico esempio to do, che permette di aggiungere delle cose, e fleggarvi, un po' preso da quello che c'è anche su Redux. Io passerei direttamente al repository, dove c'è praticamente, le parti principali sono app.js, che fa un po' la parte del, quando in Redux, React, si crea, diciamo così, si prende il componente root e si invocano React e Redux, e React e Redux, e praticamente si inizializza l'app, no? Quindi l'app in questo caso sarebbe da lanciare all'evento di load della finestra, della window, e gli si può passare uno state, altrimenti prende l'inizio al state, questo diciamo così, se uno vuole partire da uno state, mentre sta magari sviluppando, da uno state predefinito, però non è necessario passarlo. Poi dopo, stesso qua dentro, c'è implementato una specie di dispaccia, e c'è una funzione, viene praticamente instanziato il componente root, e c'è una funzione, qua forse, il componente root, e c'è una funzione render, che adesso andiamo a vedere, che è praticamente dentro il componente root, e viene chiamato l'evento di init dell'applicazione, un po' diciamo così per mimare Redux. Mentre invece l'altra parte, diciamo così, importante, è, se vedete il componente root eredita da questo component, che è la classe base, che serve diciamo così per, e simulerebbe il componente di React, ovviamente non c'è niente di tutto quello che ci può offrire, ci può offrire React, ci sono ovviamente dei pro e dei contro, tanto che comunque lo use case è mirato a situazioni dove non posso importare React, oppure voglio un qualcosa che non dipenda da una libreria, sia proprio puro vanilla. E qua praticamente la funzione render non fa altro che invocare i render dei sottocomponenti. Questo praticamente è il codice, è proprio pochissima roba. E qua nel repository c'è l'esempio del to-do che c'è anche nel codepen, e quindi praticamente tra i componenti ci sono dei componenti to-do, to-do list e add to-do. Allora, i concetti di base sono che non c'è l'ESX, è pur HTML e manipolazione nel DOM, non c'è CSS in JDS, puro CSS e basta, non c'è il component life cycle di React, praticamente i componenti vengono istanziati nel proprio costruttore, quindi puoi fare delle cose nel loro costruttore, sarebbe una specie di component did mount, il costruttore. E poi dopo c'è il metodo render, va triggerato sull'onload dell'app, la struttura Redux è molto più semplice, non ci sono i middleware, c'è solamente dispatch, è un reducer, però è come Redux, c'è un solo stato. A proposito di questo ti interrompo allora, per quanto riguarda Async, hai previsto qualcosa? Allora, per quanto riguarda Async, siccome è una cosa molto work in progress, ieri sera alle 11 di sera sono riuscito a finire un primo esempio che usa Async. Ah, ecco, c'è Davide un po' fa, allora per quello te l'ho buttata lì, infatti, quindi ti stavi lavorando. Sì, sono riuscito, come il seno, a farlo ieri, ma non sapevo di riuscirci, cioè era una cosa ancora in forze, perché è una cosa molto sperimentale, non sapevo se è riuscito a fare anche, diciamo, le funzioni asincrone. Poi ce l'ho mostrato, scusami, ti ho interrotto, volevo giusto un appunto, vai pure. E quindi praticamente ogni componente, non c'è il, non è come React che ti gestisce il DOM, il virtual DOM, ogni componente è responsabile di far renderizzare se stesso i propri sottocomponenti e un po' come avviene quando si usa Live React Load, l'azione deve essere idempotente, cioè se viene eseguita due volte, si deve occupare lui di capire che ha già girato. Ho capito. Che questo, che in solito, lo faccia il virtual DOM a gratis. Qua è una sindaci virtual DOM, e praticamente, il virtual DOM è proprio la grossissima differenza che ho trovato quando mi sono chiesto, ma cosa è che cambia tra l'uno e l'altro? E il fatto che senza il virtual DOM, praticamente, non si può renderizzare lato server. C'è la figata di React, la bellissima idea di React, anche che essendoci un virtual DOM ti astrae dal DOM, e quindi magari quella cosa lì, lo stesso approccio lo puoi utilizzare per React Native o altre cose. Esatto. E in più puoi renderizzare lato server, per esempio puoi produrre in SVG lato server. Qua invece non c'è il virtual DOM, quindi non hai questi vantaggi, però, d'altra parte, alcuni DOM, alcuni nodi che non sono supportati, per esempio il content editable, qua invece li puoi manipolare in maniera molto semplice usando le app. Sì, sì, sì. Infatti mi hai già anche tolto un po' di domande che avevo. Sarebbe interessante che ieri ho spulciato il tuo codice, far vedere come effettivamente istanze i componenti, no? Ho notato che tu crei una nuova istanza, quindi proprio con un new to-do list, dentro la to-do list istanze i componenti, devi comporre un po' a manina con Java, scritti il tuo HTML, diciamo così, il tuo template. Quella la trovo la cosa un po' più scomoda, l'assenza proprio di HTML e J6, in tutta onestà, no? Sì, quello purtroppo è il prezzo da pagare togliendo React, per quello che React è anche così figo, il fatto di toglierlo magari inizia anche ad apprezzare le cose che ti prepara lui, no? Eh, Dio, sì. Ma, scusa, ed eventualmente... D'altra parte però la build viene praticamente 4K. Eh, infatti volevo chiederti questo, anche perché in realtà poi ti stavo chiedendo, volevo, tra le domande avevo il bundle size e stavo per dirti, guarda, React comunque con 100 e poco più K, comunque non mi sembra impossibile da gestire, però ho capito gli scenari che richiedono, anzi, molti meno, molto, un peso molto, molto inferiore, però pensavo, ed eventualmente integrare un sistema di templating super leggero, non è che abbia grosse esperienze con queste cose, no? Però, in tutta onestà, quindi non so neanche se ne esistono sistemi che magari pesano 2, 3, 5K, no? Neanche? Che ti potrebbe magari agevolare la vita. Ehm, ecco, perché praticamente una delle cose, no, è che avendo tolto tutte queste cose qua, poi dopo non so neanche se fare un package e che poi uno si importa, oppure se vale proprio la pena che ognuno se lo faccia copia e incolla, cioè si copia la class component, no, e il file app.js e poi puoi incominciare e far evolvere, a seconda delle esigenze di quel progetto lì, le varie feature. Beh, comunque potrebbe diventare un higher order component, questo, o un decoratore, magari che comunque distribuisce e magari uno lo utilizza, una cosa del genere. Magari ci sono anche gli altri che avranno da dirla loro, intanto... Sì, infatti, per rispondere alle tue domande di prima c'è, per esempio, un progetto molto carino, che non so se era stato postato, o c'era questo YoYoJS. Non era YoYo, in effetti, ok. Sì, non l'ho mai sentito, dire il vero. Per esempio, questo è veramente Tini e usa i... veramente Tini e usa un sistema di template, no, con il template literal, e questo per esempio potrebbe essere... però questo è già un framework di per sé. Eh, perché tanta... Però qua praticamente già stiamo entrando... però è abbastanza... è abbastanza flessibile che secondo me si potrebbe anche usare in un approccio del genere. Cioè, arricchirlo con un sistema di template. Infatti, beh, casomai qua ti verrà dry che qualcuno ti darà qualche spunto, magari viene fuori qualche alternativa a questo YoYo. Bene, bene. Ma, ok, quindi... E l'altra cosa che mi spaventa, in realtà, di questo approccio, no, è la parte di memoria, no, memory leak, no? Mentre magari in JSX, piuttosto, scusami, che a React o in Angular, no, viene gestito comunque correttamente anche il destroy e tutte, quindi, le stanze vengono distrutte, eccetera, eccetera. Quindi mi devo preoccupare quasi... quasi non devo preoccuparmi, mi devo preoccupare meno qui, con tutte comunque queste stanze che girano. E tra l'altro un'altra piccola cosa, così ti faccio due domande in una, con queste stanze che girano e non vengono in realtà mai distrutte, mi viene da chiedermi anche appunto se hai pensato un discorso di routing, anche perché effettivamente, per esempio, nel caso di routing, quando uno cambia route, per forza di cose si aspetta che comunque questo piccolo framework, o comunque il framework che usa la libreria, distruga tutto quello che c'era nell'altra route. E l'altra cosa, così mi rispondi tutti in uno, non ti faccio mille domande, l'altro dubbio che avevo in realtà, ma quindi ho notato che nell'index HTML, se poi ce lo fai anche vedere, tu metti praticamente tutti gli elementi del DOM, e poi nei vari componenti, nelle varie classi, poi sarebbe carino se ce lo mostri, esatto. volevo capire se comunque il tuo DOM lo devi mettere per forza in un index HTML, e quindi a questo punto mi sa che la risposta è sicuramente positiva, nel senso che non si presta a situazioni complesse, perché non hai un template per ogni componentino, per ogni classe che hai a disposizione, quindi ti ritroverai tutto qua, nel body, giusto? no, no, allora, intanto la mia risposta in parte è, usare React va benissimo, cioè se hai bisogno di un sistema di routing, vuoi essere sicuro che magari, vuoi essere sicuro che se la tua applicazione cresce tantissimo, se cresce hai già una libreria che ti gestisce queste cose, va benissimo usare React o Angular, no? queste qua praticamente sono, sarebbero esempi talmente tanto contenuti, magari parliamo di un ADD che dura 5 secondi, dove l'utente gioca, però magari deve sempre vincere, no? sì, 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 o comunque deve sempre vincere. no, 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 ha molto senso, no, no, assolutamente, quindi sì, sì. e quindi in quel caso lì, se no altrimenti va benissimo usare direttamente React. ora, per, allora, il discorso delle funzioni async, e questo discorso qua del DOM, ti volevo far vedere un progetto che sto facendo, dove ho usato le funzioni async, e qua praticamente nella index c'è semplicemente un div, dove qua dentro viene agganciato tutto, viene creato un canvas, viene creato un pulsante, quindi diciamo qua viene fatto tutto tramite DOM manipulation, e il progetto è questo qua, è una cosa un po' pazza, dove praticamente sto facendo un ping ad ogni indirizzo IP di internet, e se mi risponde segno 1, se non mi risponde segno 0, e qua praticamente state vedendo la foto della scansione fino a dove sono arrivato adesso di internet, e questo è il mio indirizzo IP, questo verde, e se clicco e c'è e ho quel dato, praticamente fa una chiamata al JSON dove ho memorizzato questo dato, e nella query string mi segna che sto guardando la sottorete di classe A 196. se clicco qui, vabbè, ora qua non si vede perché devo ancora visualizzare le sottorete di classe B, devo ancora fare questa visualizzazione, però praticamente qua sopra c'è un routing, una specie di routing, dove ho creato un componente, quelli string, che mi gestisce il routing, e qua, praticamente posso navigare verso l'alto, e mi viene aggiornata la query string, che tiene traccia praticamente di dove sono, e qua avvengono delle funzioni asincrone, e questo componente qua, che è un canvas, e questo punzante, vengono aggiunte al DOM, ma non sono prescritti dentro il DOM, non so se questo risponde prima a tutte le varie cose. No, no, ma comunque ho anche capito bene, insomma, lo scenario, che in realtà non deve andarsi a sostituire a qualcosa di più complesso, ma insomma deve, insomma, l'ha realizzato proprio per andare sotto un certo peso qua. Suggerivo, in realtà, poi, adesso infatti lascerei, io avrei delle domande sulla parte di Redax, in realtà ho delle critiche su come gestiti un attimo lo Stato, perché secondo me ci sono alcune cose che non vanno bene, hai mutato lo Stato e non si dovrebbe, ci sono alcune cosine che volevo chiederti, se solo perché, insomma, ci stai lavorando, o era qualche scelta. In realtà, qui, adesso lascerei così per non monopolizzare tutto, anche se, in tutta onestà, mi volevo vedere un po' più il codice, secondo me interessa anche agli altri, vedere un po' come hai creato delle cose, però vedevo che a questo punto suggerisce anche Alessio Del Monti, faccio nome e cognome, Alessio, tanto sei in chat qui, che effettivamente potevi usare anche Preact, no? Che sono 3K byte, no? Quindi, alla fine, volendo, ce n'erano di soluzioni magari leggere, che potevi sfruttare per creare delle cose simpatiche, senza dover reinventare la ruota, no? Per dire, immagino che tu voglia di avere controllo della situazione, immagino che sia anche un po' per imparare, insomma, a livello didattico, no? Presumo. Sì, è un po' come quel post che è riuscito, di farsi il mini Redux, in realtà Redux non è che sia così, non c'è necessità di fare il, di riscriverlo, perché è veramente piccolo anche Redux, no? Anche Redux Tank, per esempio. Però, appunto, la cosa di, sì, reinventare la ruota e tuffarsi dentro il codice per capire un attimo le cose che mancano, magari apprezzare anche le varie cose che ci sono di React. Sì, sì, comunque, insomma, è una bella esperienza, infatti, infatti, immaginavo. E, guarda, non so se c'è qualcuno che vuole già intervenire, visto che effettivamente avevano fatto la, proprio la battutina su un altro framework JS, eccetera, eccetera, quindi, comunque, siete liberi di partecipare, quindi, casomai, aprite il microfono, oppure magari avvisate in chat, così non c'è, non c'è casino. Se no, altrimenti io ti farei un paio di domandine, magari interessa qualcun altro su cui lo vuole intervenire, sulla parte di Store, Redux, eccetera, anche se sarebbe stato carino vedere un po' di più la parte tecnica su come è implementato il tutto, però magari, appunto, se ci saranno domande, le faranno, oppure magari a fine call. Ma possiamo vederlo anche brevemente, se vuoi, in particolare su... Beh, no, in realtà, guarda, era carino dare qualche dettaglio in più su come, appunto, è implementato questa parte di render, ma prima comunque c'è accennato qualcosina, a questo punto io volevo, me le sono già segnate un po' di cose, così magari c'è qualcun altro che può dare il suo apporto. Se apri Reducer, no, quindi Master SRC Reducer JS, mi sono segnato, sai, un po' di cose, non è che mi ricordo fuori il link, quindi lì, notavo, ci sono un paio di cose che vorrei discutere con te sull'approccio, in realtà, più che altro dello stato applicativo. Qui, allora, innanzitutto vedo, no, che qua, adesso, purtroppo, per chi non ha, magari, esperienza di Redux, si trova un po' in difficoltà, però innanzitutto vedevo una cosa, lo state. Tu fai un object assign current state, è praticamente inutile se non ci metti un primo parametro con l'oggetto nuovo, con l'oggetto vuoto, praticamente. Ah, sì, un errore, grazie. Perfetto, quindi questa è una. La seconda cosa, in realtà, che comunque non andrebbe bene, perché comunque nello stato di return, dove fai sotto la riga 19 il ritorno dello state, nel caso di default non dovresti tornare un clone dello state, ma lo state originale, in modo tale che, faccio un esempio, se dovesse scattare la render function di React, o del tuo componente, o la change detection di Angular, non dovrebbe scattare nel caso in cui lo state è rimasto immutato. Quindi, secondo me, in realtà, quindi il return state non dovrebbe essere, cioè, quindi non va bene fare un object assign in alto che clona l'oggetto, perché sennò lo ritorneresti sempre nel default clonato. Non so se sei d'accordo con questa osservazione, perché sennò ti risulta sempre mutato. Mentre se per caso non c'è questa necessità, infatti anche in Redux, è proprio uno dei, non dei principi, comunque, sono una delle caratteristiche, è ritornare, nel caso di default, lo state originale, senza modifiche. Quindi, praticamente, non so se avete lo schermo. Sì. Praticamente, dici, default... Praticamente, no, ti dico subito cosa ti dico. In realtà, non farei a riga 2 l'object assign, perché sennò così... Ah, esatto, il limite è current state, esatto, bravo, ci potrebbe stare così. Però, c'è un'altra cosa, se no, per come ci suggerisce il buon Dan, Abramov, ormai signore incontrastato dell'universo, e praticamente, ok, userei un approccio più alla Redux, ma anche per rimanere un po' più affine alle metodologie più comuni. Ovvero, io in realtà non farei l'object assign, e semplicemente a riga 4 farei un semplice concat, come suggerisce anche lui, e praticamente lo copio in chat. Non odiatemi, perché senza che ti condivido lo schermo, e praticamente io farei, ecco, magari lo condividi tu dalla chat, piuttosto, se riesci a mettere in mostra, eccola qua, farei piuttosto uno state to do sconcat, dove praticamente vado, dove il concat in realtà ritorna una nuova reference, mentre il push va a modificare il dato originale. Tra l'altro, seguendo sempre i consigli del buon Dan, c'è la versione concisa, eventualmente, che usa lo spread operator, col punto punto state to do, l'ho copiato in chat di nuovo, che semplicemente ti ritorna, quindi un nuovo array, che è composto da, tramite lo spread, fa praticamente scritta tutti i to do's, e poi gli aggiungi il nuovo to do. Ok, qua, qua, provano lo spread, ok. Stessa cosa... Lo spread ce l'ho in S2015, che tu ti ricordi? Oddio, non mi ricordo se è una cosa del 2016. Mi parla di sì, perché lo usavamo. No? Ok, niente, allora. Comunque, in realtà, in tutta onestà... Però lo mettiamo subito, così lo provavamo. Ok, comunque, vabbè, a parte questo, e poi un'altra, che adesso non so se è giusto, io l'ho scritto un po' ieri, un paio di appunti alla veloce, e la stessa cosa nel to do, in realtà, che però non puoi fare, secondo me, perché ti manca un ID univoco, una chiave univoco, poi comunque ieri non ci ho perso tempo, era giusto per darti dell'indicazione, nel to do, invece di usare, praticamente, questo approccio, in cui scrivi chiaramente il dato, sempre secondo il nostro buon Dan, di solito consiglio di fare, se un map, per esempio, che chiaramente ci restituisce un nuovo array, in questo modo, puoi fare, quindi, un map sui to do's, a quel punto, in realtà, lui consiglia, invece di fare direttamente, di ritornarti, di restituirti direttamente il nuovo stato, siccome siamo nel to do's reducer, crea anche un to do reducer, che si occuperà specificatamente dell'elemento singolo, e in quel caso lì, lui, diciamo, consiglia di avere una casistica del genere, io ho cercato un po' di riportarla alla tua situazione, in cui sostanzialmente cambi il to do, solo quando effettivamente è necessario, con questo piccolo controllo dello state E, e poi alla fin fine ritorni comunque, sempre con lo spread operator, lo stato, con l'elemento poi Dan flaggato, no? Comunque, boh, era giusto una direzione, per far, insomma, che mi piaceva, sia perché era simpatica da discutere con te adesso, e sia perché, insomma... Sì, in questo, praticamente, questa cosa qua è una delle cose che, perché anche io l'ho partito da questo fatto che il to do aveva un ID, e questo invece è uno dei casi in cui, togliendo React, sono stato comunque forzato a, che è il punto che avevo scritto qua, che praticamente, non essendoci, dovendo fare don manipulation, questo ha influenzato tantissimo il mio stato, e quindi praticamente qua, l'ID del... non c'è, il to do non ha un ID, ma ha un indice, perché il to do è una lista. Sì, sì. La lista di to do sta dentro un li, e dentro un tag, e ogni to do è un li tag, e quindi praticamente, siccome React ha bisogno della key, sì, lo faccio vedere qui. E che, sai cosa, quindi tu non vuoi comunque seguire il principio anche di usare delle, per esempio, anche delle impure function, in questo caso, scusate, delle pure function, in questo caso sono impure, chiaramente perché vai a, comunque ad alterare il dato originale, quindi era un po', perché, sai, ultimamente quella è la tendenza, anche per poi facilitare le unit test, insomma, comunque, mi chiedevo, insomma, il perché di questo cambio di direzione, rispetto a quello che ormai è diventato quasi uno standard de facto, no? Nella gestione dello stato, no? Solo per questo. No, no, sì, sì, quelle sono praticamente, perché, ehm, delle cose, sono sicuramente le cose da correggere, quelle di avere lo stato puro. Ok, ok, quindi solo perché, solo perché è ancora una draft, insomma, in work in progress, ok, ok. Sì, quello che dicevo del, del, dell'ID, no? e praticamente non ho, non ho utilizzato uno stato dove ogni to do ha un suo ID, ma ho dovuto, praticamente, è la forma del DOM. Sì, sì, ho capito, l'indicare rappresenta la posizione del tag di questo lì, nella sua UL, praticamente. Infatti, non avendo, non avendo la feature di React che, devi passare la key uguale a qualcosa, che praticamente la mia key era l'indice del, l'indice della, dell'elemento della lista. Che mi fa paura, perché però se lo, se lo rimuovi, l'elemento della lista, poi qualcosa potrebbe non quadrare, ho sempre il terrore io di usare gli index, perché non rappresenta davvero un'evocità, no? Dell'elemento, no? Alla fine, se per esempio si spostano, li rimuovi o fai qualche operazione, no? Sempre veramente il terrore. Magari perché non sono in grado io di gestirli correttamente o perché comunque ho sbagliato sempre l'approccio, però ci sono quei casi appunto particolari, appunto tipo di sorting o di rimozione degli elementi che effettivamente mi fanno sempre il terrore con l'indice. Però va bene insomma. No, lo davo per scontato che comunque sia, questi dati arrivino quasi sempre da un database o comunque sia, possano avere sempre un, un identificativo univoco, no? Per quello lo davo per scontato, che potessi usare l'id. Però va bene insomma. Ok. E poi un'altra cosa riguardo al DOM. Sì? Il fatto di utilizzare invece il DOM dentro l'HTML. Sì. Cioè voglio dire di non utilizzare il JSX, ma utilizzare gli elementi del DOM. Questo qua è tutto il discorso che c'è anche con VJS o con Angular dove, che praticamente sono più designer friendly. Certo. Sì. Perché comunque in generale dei designer conoscono più l'HTML, dargli un index HTML che ha già, senza domain manipulation, ha già una semplice, ma dove ha già comunque tutti i componenti che loro possono anche stilare, eccetera. E mettendo, facendo sì che il JavaScript, come era agli inizi, si occupi solamente della parte di interazione dei componenti e quindi praticamente avresti una pagina ferma che non fa niente statica. In più, mettendoci il bando a JS, fai in modo tale che i componenti possono anche interagire tra il loro, no? E questo era uno dei motivi per cui ho sperimentato a usare proprio un HTML old school. Capito, capito. No, no, sicuramente interessante, assolutamente. Per tutti i contesti che hai citato all'inizio è veramente interessante. Guarda, se tu hai da aggiungere qualcosa, io non voglio essere appunto a monopolizzare la chat, lascio anche se nessuno mi sa che ha il coraggio, qui più o meno. Però, insomma, se avete domande, anche semplici, o piuttosto che volete rompere le scatole a Gianluca o insultarci, insomma, siamo qui senza problemi. Però non so perché, mi sa che qua nessuno parlerà. Va bene. Allora, a questo punto, non so se vuoi aggiungere ancora tu qualcosina, perché se no, senza fare anche delle, essendo il primo questo, insomma, senza fare dei talk noiosi, lo possiamo anche chiudere tra poco, eh. E vedo che siete timidi, comunque, insomma, stanno scrivendo in chat. E... Beh, se avete comunque una domanda... Ciao. Danilo. Ah, Danilo. Ah, chi è? Danilo. Ah, eccolo, ciao, Danilo Delfio. Eccolo qua, il nostro... Il nostro buon Danilo. Io ce la faccio a domicolo. Inzitutto, Danilo. Facevo. No, perché mi siamo persi una parte iniziale. Per quale motivo c'è stata la necessità, a parte la leggerezza, della libreria, di creare... Perché, insomma, che ci chiedevamo tutti, era anche una delle mie prime domande, perché hai dovuto rifarla? Te lo faccio ridire da Gianluca. Ma un po' per divertimento, un po' anche per il fatto di utilizzare Vanilla. Vi faccio un esempio, c'è un ragazzo che lavorava qua, che adesso poi dopo si è messo a fare una startup che fanno un'applicazione di musica, per studiare musica in condivisione, no? E loro hanno fatto questa scelta qua di non utilizzare nessun framework, e così tra cinque anni, tra dieci anni, comunque la loro app continuerà a essere potuti fare tutto il pentagramma, no? In HTML, no? Tra dieci anni la loro app continuerà a funzionare, utilizzando delle cose, di HTML, JavaScript e Vanilla, hanno questo vantaggio qua di non dover ogni volta aggiornare la libreria, eccetera, eccetera. Questo è anche uno dei motivi, sperimentare in questo senso. Guarda, io su quello però se devo... Ah, prego Danilo. Scusa, io credo che stavamo dicendo la stessa cosa, cioè non si sa, a parte che tra dieci anni mi preoccupo tra dieci anni ciò che sarà successo appunto tra dieci anni, perché io ho lavorato su progetti, io vengo anche dal mondo Java, back-end, ho lavorato su progetti in cui si è fatta la scelta di non usare nessun framework la tua Java. Il problema qual è? Che prima i framework sono ottimizzati e gestiti da persone che hanno le palle quadrate e quindi presumibilmente ne sanno leggermente più di me. E secondo, domani, metterci le mani con persone che prevalentemente avranno la mentalità di persone che utilizzano framework sarà sempre più complicato. questo è un mio piccolo consiglio perché è figo fare le cose proprie, a parte questa cosa che hai fatto tu è fichissima, la trovo molto interessante, ma diciamo la farei giusto appunto per un esercizio di stile. Eh, ma tu non hai... In realtà Luca non ha detto una cosa che prima aveva detto, ma non so perché ci avevi pensato adesso, perché forse perché parlavamo di pre-acto, eccetera. Era anche un discorso di peso, no? In questo modo lui più comunque nel campo per esempio dell'advertising potrebbe creare creare comunque dei banner animati o delle cose in 3, 4, 6, 7k, no? Magari invece solo React e Redax pesano 130k, per capirci, no? Quindi quella era anche... No, 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 no. In fact ha senso. Ha senso. Sì, c'è anche un altro fattore che forse non l'ho evidenzato bene, che ci sono delle cose che React non supporta. E cosa supporterebbe la tua che React non fa? Qualcuno è... La mia non è che le supporta è che è una cosa che magari farle in vanilla è molto semplice, farle in React si può fare, però hai bisogno di ulteriori librerie, per esempio il Canvas. Ecco, mi fai l'esempio? Ok. Beh, scusami... E infatti in questo esempio che avevo mostrato, che si usa il Canvas, ma il Canvas è un componente, e si occupa lui di gestire... E potrebbe avere anche dei sottocomponenti, si occupa lui di gestire tutti i vari eventi, le cose, farlo in JavaScript in vanilla è quasi semplice, diciamo così, cioè uno segue le app che sono documentate, eccetera. Farle in React ci sono delle librerie che usano il Canvas, però diciamo che anche lì il peso aumenterebbe. Sì, quello è vero, però in realtà tu potresti comunque usare la stessa cosa in React, cioè comunque nel tuo JSX ritorni, restituisci un elemento Canvas e poi ci puoi lavorare su quell'elemento comunque con l'API classica, insomma la sintesi classica di Canvas, oppure con la libreria, però. Non è che devi per forza avere un approccio di co-component-based anche nel Canvas, come già, se non sbaglio, mi mostravi tu un esperimento simile con SVG, no? Mi pare Gianluca, che hai dedicato un renderer di SVG, se non sbaglio. Sì, infatti ho fatto un render SVG, che è questo qua. Però dico, non sempre bisogna, però, intanto che lo apri, scusami, non sempre è necessario comunque creare un render, nel senso tu puoi comunque avere semplicemente un Canvas e lavorarci sopra, insomma, anche che sia React o Angular e via dicendo. Infatti, per quanto riguarda il debito tecnico tra 5 e 10 anni, in realtà, io attualmente invece sto facendo un'altra cosa, nel senso che uso React o Angular, per esempio, per la gestione del life cycle e sfruttare tutta la parte di componentistica, però quando devo usare una libreria, in questo caso tipo D3JS, piuttosto che Canvas, piuttosto che WebGL, alla fin fine preferisco crearmi delle classi o dei moduli S6, TypeScript o TypeScript e che a questo punto riesco a portarmi facilmente tra React, Angular ed eventualmente Polymer, tra Polymer 2 quando uscirà, piuttosto che il nuovo framework o Vue.js. Quindi, già in questo modo, secondo me, si risolve parecchio la situazione, ovvero, se devo lavorare con Google Map e devo crearmi un sistema di clustering dei marker complessissimo invece di crearmi il codice direttamente nei servizi di Angular o nei componenti o dentro React o quello che è, cerco di astrarre le funzionalità in modo tale da poterlo utilizzare tramite classi o moduli S6 semplicemente sia che usassi sia che utilizzi Vanilla.js piuttosto che un altro framework, no? Questo è un po' quello che sto adottando, infatti per fortuna alcune robe che mi ero fatto in React con D3 altre situazioni un po' più rognose me le sono riportate quasi pari pari in Angular facendo questa cosa, no? Però oggigiorno devo dire che pensare di lavorare senza un framework Dio, sull'applicazione mi verrebbe un'angoscia, capisco, per esempi piccoli però diciamo che è un po' angosciante come idea. Sì, mi ripeto è una cosa più un esperimento giusto per vedere infatti che sto usando i design project e forse useremo anche per gli animi qua un altro caso dove c'è un altro esempio che l'ho fatto sempre questo anche con i componenti vanilla e vediamo se funziona ma per adesso fa solamente l'upper case delle keyword SQL e questo qua è un div content editable di quello che dicevi prima, Sì. E in React anche non è supportato o nel senso si può supportare, si possono fare delle cose però inizia già a diventare macchinoso mentre invece se sei in vanilla scopri anche delle cose anche per imbarare. Sì, hai totale controllo della situazione, capito, capito, certo. Impari anche scopri anche delle cose che esistevano e dici caspita, ma esisteva che stavi qua nel DOM ma non lo sapevo. Cioè anche un po' più per divertimento diciamo. Chiarissimo, chiarissimo. C'è un'altra domanda? Altre domande? Come ha detto qualcuno che fa una rispettazione senza fare il DOM e comunque sono un po' un po' un po' un po' un po' un po' più di nicchia questo però. Ma abbiamo Gianluca che fa un po' ecco prego prego Sì, ciao Fabio, ciao Gianluca, ciao a tutti lei. Ciao Luca. Volevo fare una domanda in realtà. Tu hai usato sicuramente questo approccio molto interessante anche come dicevi per imparare. Dato che nel mondo reactor e undo Redux di caos diciamo così almeno così ho trovato io suggerisci per apprendere proprio meglio questo Redux suggerisci di avvicinarci così con un progetto facendo come il tuo oppure utilizzando delle come si può dire delle documentazioni presente nel web. Cioè come sei arrivato a imparare per poi dopo partire con Vanilla JS? No, ti suggerisco per Redux di leggere il sito questo qua quello ufficiale e di farti tutto il tutorial e vedere questi due video qua e sei a posto. Ah, ok. Quindi questa è anche però è una domanda fatta da tutti i nobbi in realtà. E a posto tra virgolette nel senso che ci devi dedicare un po' di tempo non è proprio immediato ovviamente prima però queste sono le risorse che ti bastano per sapere tutto quello che ti serve ovviamente sono i video su eGed.io immagino questi che sono i video su eGed.io questi che sto entrando qua che sono anche linkati nel nel sito di Redux dove c'è tutto il tutorial che seguendo quello partendo prima dal tutorial per questi due video qua io i video le ultimi pezzi l'ho perso da Nabramov perché iniziava a spazzare troppo no? Anche se non guardo tutte le puntate però almeno all'inizio ti spiega molto 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 bene e ti consiglio appunto prima però passaggio zero e capire un po' meglio React non fa male eh sì scusate le varie cose poi dopo se sei spiegato come me troverai dei casi dove magari era più facile farlo vanilla certo tipo per esempio all'inizio avevo fatto un framework che praticamente serve per fare dei ho fatto una libreria che serve per collegare tra loro dei blocchetti in SVG e ai tempi eh usare l'SWG in React non era poi dopo così tanto supportato no? Adesso più o meno eh sono supportati quasi tutti quasi tutte le feature SVG alcune no per esempio l'altro discorso di prima no? eh il tag use e il tag defs di SVG che è una figata in React non c'è sei sicuro al 100% che non sia supportato mi sembrava di averlo utilizzato a dire il vero però almeno quando ci ho guardato io non si poteva non si poteva usare il tag defs comunque ti ho provato con React 15 punto qualcosa comunque non prima perché prima so che c'erano grosse limitazioni poi hanno cambiato in realtà l'approccio mi sembra e hanno aggiunto tante cose però questi tag qua mi pare che non ci siano almeno l'ultima volta che ci ho guardato non li avevo trovati poi magari ci sono non li ho trovati io sì ok ok però diciamo questi sono casi molto 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 marginali per il buon 90% dei 95% dei casi React va benissimo e funziona alla grande e per Redux vi consiglio appunto questo qua che è il sito ufficiale che spiega tutto benissimo c'è tutto il tutorial soprattutto la seconda parte per le async e poi con questi video ti toglie un sacco di dubbi ti da un sacco di dritte e vale veramente la pena di guardarli io ho trovato molto bello nei video questi qua della prima serie il fatto che quando usa tipo create store di Redux o combine reducers sempre funzionalità di Redux poi li elimina e li scrive da zero e vi mostra quello che c'è dietro le quinte quindi praticamente vi spiega effettivamente come creare una propria implementazione di Redux quindi sono veramente fatti bene anche io con i video veramente ottimi comunque si è indispensabile prima conoscere React come diceva giustamente Gianluca perché se no effettivamente secondo me non riesci neanche a cogliere i vantaggi poi di Redux o come gestire nel modo migliore alcune circostanze e un'altra cosa che ci come diceva giustamente Gianluca ma lo ribadisco non è che usare Redux semplifica la vita anzi per fare a volte un Hello World devi scrivere un sacco di righe di codice i vantaggi poi sono altri insomma nella scalabilità manutenibilità del codice lo unit test molto più semplice se usi questo approccio e via dicendo quindi ribadiamo insomma che usare Redux non vuol dire essere produttivi talvolta il contrario però in realtà la produttività secondo me poi parlo per me per l'amore del cielo si coglie in realtà a distanza di mesi quando settimane quando in realtà poi devi mettere mano al codice introdurre nuove funzionalità e una bella separazione tra l'architettura dati e la parte di presentational e quindi insomma i vantaggi li cogli dopo ecco magari poi parleremo di Redux un'altra volta così in realtà questo poteva essere il secondo video prima avremmo dovuto parlare di React Redux e poi magari di questa cosa però vabbè insomma lo faremo scusami anzi Gianluca sono integrato un po' di cose però sono d'accordo con tutto no Alessio dice in pratica vi va di fare Redux da zero no anche perché in realtà una delle mie domande era perché all'inizio ma poi ce l'ha spiegato in tutti i modi perché comunque anche Redux no ma lui si riferiva ai video ah ok scusami scusami ok ah vi fa rifare la fine è stata zero sì sì parlavo letto velocemente ok sì sì esatto esatto c'era Michele mi sa che voleva fare una domanda vedevo Michele Steven mi sembra te l'ho visto prima che timidamente sì no più che altro volevo rispondere ho provato a parlare però c'era vai vai scusami che parlavano ma più che altro volevo dare volevo dare un consiglio mi pare a Luca sì Luca diceva che si trovava un po' magari spiazzato di fronte a Redux no il consiglio che volevo dargli era prima di dare un occhio a Redux di guardarsi anche bastano proprio di video tutorial su YouTube dei video su Redux che è l'implementazione che poi oddio su quello non sarei proprio d'accordissimo perché cambia un po' Redux secondo me non vorrei confonderlo ancora di più però male non fa più che altro per dargli un'idea perché uno si chiede a cosa serve Redux e mi ricordo quando studiavo che era più un problema di concetto alla fine e se tu ti guardi magari io avevo visto all'epoca una bella dei bei tutorial su React se tu cerchi React tutorial su YouTube trovi è una delle serie più viste che ti spiega anche come funziona il come funziona flash quindi il giro che fa la tua informazione il tuo dato quando hai capito quel meccanismo lì il giro che deve fare l'informazione allora capisci cosa è Redux e allora te lo studi e ci metti molto molto meno quando hai capito perché ti serve fare l'informazione di quel giro lì secondo me sì no grazie ma infatti era proprio questa una delle difficoltà anche perché dato che è un peso nel senso ha una sua anche complessità e ti chiedo ogni tanto sì ok ti fanno vedere degli esempi molto banali dice ma perché devo complicare la cosa quando poi lo dice semplifica eccetera ti aiuta sì probabilmente un po' ma all'inizio è un po' più difficile secondo me da digerire magari è una mia cosa personale no non è tua io ci ho perso mesi a digerirlo e ancora alcune cose non le digerisco no no infatti 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 ecco e poi tanto materiale che si trova in rete non ti aiuta in questo perché come dicevi tu giustamente su youtube trovi centinaia di video e tutti dicono che è il santo grale ed è la via maestra da percorrere però tu dici sì aspetta un attimo però quando devo utilizzarlo quando non devo farlo quando mi aiuta quando non mi aiuta quando mi complica la cosa per questo era molto interessante anche il talk di Gianluca che ringrazio perché è un modo un po' più semplice per vedere una sua utilità ti dici ah ok va bene posso gestirlo qua se mi dovesse servire posso pensarlo così posso prendere una versione più leggera insomma in questa ottica qua tieni conto tieni conto che comunque Redax nasce anche un'altra esigenza anche Flux il fatto che comunque sia quando hai un team di persone no che o comunque una squadra di sviluppatori comunque magari suddivisa in più team e per esempio in realtà Facebook questa è la situazione che poi è il motivo per cui tante cose sono state fatte in Facebook e che praticamente vogliono uniformare rendere più consistente la developer experience tra i vari team e anche per quanto riguarda metodologie e approcci vorrebbero uniformarle un po' e quindi in realtà usare fino a prima che uscisse Flux Redax o comunque questi approcci comunque ogni team usava una propria architettura che era dovuta all'esperienza degli appunto degli engineering o degli architetti che insomma lavoravano a quel progetto e ogni progetto era praticamente diverso dall'altro completamente nell'approccio usando Redax alla fin fine si è uniformato il modo di creare architetture e alla fin fine adesso anche spostare un architect da un team all'altro non è più complesso perché comunque non devi entrare in un progetto completamente nuovo ma semplicemente il 70-80% dell'approccio e metodologie che sono usate già li conosci perché tu usi e questo è il vantaggio anche di usare un framework come Angular ma poi la figata che questa cosa in realtà si è trasformata dall'essere un vantaggio solo all'interno di un ecosistema React a spostarsi anche in altri ambienti per esempio adesso lo stesso approccio con Angular Redax lo puoi usare appunto in Angular quindi alla fin fine lo tuo stesso know-how lo sposti anche appunto in altri framework tant'è che per esempio faccio la marchetta all'Angular Day che sarà il giorno 16 giugno a Verona ci sarà un talk di Gianmarco Toso che è un espertissimo in React che per esempio ci espone comunque con un talk di 50 minuti i vantaggi di usare Redax quindi in realtà si parlerà di Redax in maniera abbastanza astratta e poi verticalizzare su Angular pur ammettendo ve lo dico già subito che Gianmarco per esempio ha meno esperienze in Angular rispetto a React ma i concetti sono praticamente sono tali sono simili che comunque non ha grosse difficoltà a migrare da una parte all'altra poi è chiaro che si sfruttano le dinamiche del framework stesso per esempio in Angular abbiamo la Dependence Injection e quindi viene sfruttata pieno da Redax anche per anche questo elemento in React non si utilizza più di tanto non c'è insomma questo approccio e quindi non lo si utilizza però le skills rimangono le stesse e in più un altro vantaggio è che per esempio Redax gestisce lo store applicativo quindi lo stato della tua applicazione quindi tutte le informazioni a questo punto molto spesso è l'esigenza di mantenere sincronizzato ti faccio un esempio e qua la concludo il local storage con questo dato applicativo che sia un token le credenziali piuttosto che il profilo eccetera in Redax fai questo per esempio con una riga esiste un plugin che per la persistenza di dati semplicemente dici quale parte dello stato applicativo vuoi salvare sul local storage e ogni volta che questo stato applicativo muterà verrà aggiornato e allineato anche il local storage e addirittura ogni volta che tu recuperi le informazioni da questo store prima per esempio ti va a interrogare il local storage e la recupera se è presente ti fornisce quell'elemento altrimenti no e te lo fa a gratis dicendo la vecchia insomma quindi senza doverci perdere troppo tempo installi praticamente una dipendenza e hai praticamente questa funzionalità con una riga di codice e così c'è tutto un ecosistema dietro veramente enorme ciao Lucia che torni a lavorare quindi e quindi alla fine fine secondo me i vantaggi sono anche molto nell'indotto che c'è dietro Redax non solo di per sé io ho trovato anche un'altra cosa che ho trovato spettacolare è la flessibilità che ha mi ha permesso di fare delle cose che ha un app molto flessibile con tutti i middleware e tutte le varie cose no? cioè per esempio ho dei progetti dove ho degli elementi che lanciano eventi c'è un canvas in 3D fatto con 3GS che mi manda degli eventi con un middleware e Redax sono riuscito a trappare questi eventi qua e mandarli dentro Redax e poi magari sincronizzarci anche il socket I.O. e il local storage sempre con dei middleware ho trovato che è un MDI fatta veramente veramente bene che è vero che magari inizio uno deve fare un hello world eccetera però si fa presto a far crescere l'applicazione e far diventare mediamente complessa dove i benefici di Redax secondo me si vedono già i primi giorni sì sì alla fine sì sono proprio i primissimi giorni che sono un po' più duri in cui devi mettere in piedi tutto tra virgolette però insomma e soprattutto i primi giorni in cui devi capire un po' le dinamiche però sì sì no pazzesco veramente pazzesco come approccio soprattutto poi anche un altro vantaggio che io ho trovato per esempio quando io lavoravo in team e non utilizzavo non conoscevo ancora React bene e Redax alla fine Redax lo scrivevano i miei colleghi la parte di data architecture era completamente slegata mi passavano le informazioni la parte di presentational e tutta la parte di componentistica rimane totalmente stateless quindi non ti devi preoccupare di behavior di gestire dati o altre cose perché tanto semplicemente lo gestisce Redax dietro le quinte e quindi pur addirittura non utilizzando Redax e non conoscendolo bene ne sfruttavo comunque ne ho sfruttato fin dall'inizio all'interno di un team tutte le dinamiche i vantaggi questo per dire che in realtà ci sono contesti in cui anche sapendo conoscendo semplicemente React la libreria ci sono team in cui comunque ci si può questo è un po' un suggerimento anche per un approccio lavorativo eventualmente un consiglio per come studiare anche solo utilizzando React si può far parte comunque di un team in cui ci sono magari già degli architect che si occupano del data layer quindi senza magari essere insomma troppo skillati su Redax questo lo dico più che altro per Luca quindi puoi iniziare da React io in realtà ho perso un anno intero su React solo facendo solo quello occupandomi solo di gestire componentistica poi sono passato a Redax ma il primo tempo c'erano i colleghi ho rotto le scatole a loro se ne occupavano loro passato alla volta secondo me no no assolutamente assolutamente infatti proprio per quello dicevo era la mia domanda su come lui è arrivato a maturare l'esigenza e anche la voglia di imparare fondamentalmente per creare una versione vanilla JS assolutamente eh sì sì chiaro chiaro poi io sono un po' indianne però se guardi i video scusa se guardi i video quelli di Dan Abramov e lui ti fa fare più o meno questo percorso qua ha fatto molto meglio ovviamente però cioè lui praticamente nel primo video praticamente ti fa vedere lui come ha costruito Redax passa passaggio per passaggio e ti fa vedere quali sono i vari approcci uno dopo l'altro fin quando poi dopo praticamente si riscrivere Redax da zero ovviamente quello che ho fatto io è molto più sgrauso è più una cosa un esperimento che si giusto per vedere però è anche appunto per quello per imparare infatti infatti ci sta ci sta comunque la prossima volta potresti trovarci con tanti con tanti come tanti altri hai fatto una cosa fantastica che però io non avremmo fatto nel senso comunque un'ora che è quello che hai fatto soprattutto per la sua mappa del dp è finissima poi sono arrivato a oltre la metà di tutto internet oltre la metà ma anche quello per esempio io vabbè sono abbastanza intelligente ma che serve a niente se magari c'è qualche tipa imballata di queste cose qua artistiche non so per imbarcarla no non so serve a niente è una foto di internet se ne è solo lo posso farla qualche installazione multimediale assolutamente fighissimo io veramente tra l'altro potresti far leggere riga per riga e fare musica con internet eh ma un sacco di cose QR code oppure infatti essendo un cuciverba però potresti vedere magari quali reti sono un QR code vero no oppure cioè non so adesso sto raccogliendo i dati poi si potrebbero fare n cose anche musica va bene grazie ragazzi io vi devo lasciare molto simile su fatto io non lo sento bene Michele anche io non lo sento bene mi sentite? adesso si adesso perché io ho problemi di connessione in questi giorni quindi mi va un po' strafarsi dicevo che dicevo che c'è un progetto interessante con le UGL mi sembra che fa questa cosa che che fai tu però con i repositi e ti fa visualizzare come delle come delle entità ah interessante se quello linki ci do un occhio bene bene boh casomai poi insomma anche sotto sotto l'evento linkiamo un po' di cose di cui abbiamo parlato ci starebbe anzi qualche link anzi sarebbe carino rimettiamo tutti i link di cui abbiamo discusso anche quelli di get.io piuttosto che anche i tuoi esempi quello che vuoi direttamente sotto l'evento così rimangono ok bene bene boh ragazzi direi che la pausa è terminata tutti stanno tornando via io ringrazio intanto Gianluca spero che sia stata una cosa secondo me è stata piacevole da ripetere e magari Gianluca prossima volta parliamo anche proprio di Redax quindi coinvolgiamo qualche altro ragazzo e parliamo di quello che sicuramente è uno dei temi più caldi secondo me più gettonati quindi ci sta ok va bene va bene ragazzi grazie mille ho comunque registrato tutto se è venuto decentemente la pubblichiamo e vi faccio avere il link chiaramente vi facciamo avere grazie ancora a tutti grazie ancora a Gianluca e buona giornata a tutti ciao 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 ciao